Sgravi sulle spese e utilizzo di farmaci umani anche per gli animali. Fratelli d'Italia ha presentato la legge Curarmi Costa Meno nella cornice del Parco del Vul. Vuole essere un'iniziativa per favorire chi ha degli animali domestici. C'è stato un decreto firmato nel Ministero della Salute che equipara i farmaci degli umani a quelli degli animali perché i farmaci veterinari hanno un costo molto molto alto. Ma non è solo questo il punto. Noi oggi, seguendo anche indicazioni delle associazioni animaliste, chiediamo sgravi fiscali perché abbiamo una fiscalità come se gli animali fossero beni di lusso. E questo non è vero perché sappiamo molte volte che tante persone fragili, anziane, sole, hanno nell'animale l'unico momento di compagnia e di affettuosità che li può aiutare a superare le difficoltà. Curarmi da oggi Costa Meno è il titolo della conferenza stampa che ho organizzato come Fratelli d'Italia per presentare la legge che dà la possibilità agli animali di curarsi anche con farmaci umani a parità di principio attivo. Una legge fortemente evoluta anche dal nostro onorevole Paola Frassinetti che oggi ci onora dalla sua presenza. Una legge che io chiamo di civiltà perché va incontro a quelle tante famiglie in difficoltà. Ed è bello vedere oggi a questa conferenza stampa la partecipazione degli amici della Lega, di Pavia Prima, di Pavia Ideale e anche di Forza Italia ma soprattutto dell'assessore Roberta Marcone che in comune a Pavia ha proprio la delega al benessere al tutelare degli animali. Siamo davvero in tanti oggi al VUL per sostenere questa proposta di legge. Una proposta di legge che ripeto è una proposta, è una battaglia di civiltà. Un tema particolarmente sentito dall'amministrazione comunale di Pavia che ha istituito una delega DOC per la tutela degli animali. Il 15 aprile quando ho letto il decreto del ministro Speranza che appunto andava nella direzione di dare la possibilità ai veterinari di prescrivere i farmaci ad uso umano, sono stata contentissima e insieme a me tutte le associazioni animaliste, tutti quelli che amano gli animali animali che sono membri della nostra famiglia a tutti gli effetti e che hanno il diritto di essere curati e noi abbiamo il dovere di tutelare la loro salute e il loro benessere. In questa direzione infatti il mio assessorato ha da poco promosso un bando che è uscito da poco appunto e che va nella direzione di ristorare le spese mediche per gli animali a quelle famiglie con un ISEE basso e che diversamente magari non si possono permettere di curare gli animali, di vaccinarli.